Il 22enne Gabriele De Filippi ammette di aver ucciso Gloria Rosbach, la professoressa strangolata e gettata in un pozzo il 13 gennaio nel Torinese. Una confessione che arriva dopo quattro mesi. Sono stato io, rivela il ragazzo in lacrime e chiedo di essere condannato all'ergastolo. Il giovane è in carcere dal 19 febbraio con il presunto complice Roberto Obert, 55 anni, e la madre Catarina Abbattista, di 46 anni.